ecco arrivato il giorno del grande silenzio tutta la terra è ammutolita per il grande mistero che abbiamo appena celebrato il giorno del venerdì santo il corpo di gesù riceve l'ultima unzione e viene deposto in un sepolcro nuovo le mani che avevano guarito tanti malati non possono fare più niente per gli altri il cuore che ha amato con tanta intensità ha cessato di battere è tutto finito la morte ha vinto l'amore ce lo ha detto il signore nelle pagine della sacra scrittura la croce non ha l'ultima parola dio rinnova ogni cosa e neanche la morte più forte del suo amore viviamo questo sabato santo insieme a maria aspettando l'alba della risurrezione lasciamoci riempire oggi dalla speranza e dal compimento delle promesse di dio che vince la morte e il dolore insieme a cristo tutti risorgeremo alla vita senza fine domani brillerà la luce del risorto la luce della salvezza aspettiamolo pieni di speranza e fiducia cosa dice al tuo cuore il silenzio del sabato santo ti senti preparato per il giorno di pasqua senti di aver vissuto un intenso tempo di quaresima